Ecco 30 frasi brevi in italiano di livello B1 per fare conoscenza o fare amicizia. 1. Buongiorno, come stai? Buongiorno, come stai? 2. Piacere di conoscerti. 3. Piacere di conoscerti. 3. Da quanto tempo sei in Italia? 4. Che cosa fai nel tempo libero? 5. Dove abiti? 6. Hai fratelli o sorelle? 7. Qual è il tuo piatto preferito? 8. Hai visto quel film recente? 9. Cosa ne pensi di questo libro? 9. Cosa ne pensi di questo libro? 10. Ti piace ascoltare musica? 11. Qual è il tuo cantante preferito? 12. Che lavoro fai? 12. Che lavoro fai? 13. Studi o lavori? 14. Hai degli hobby? 14. Hai degli hobby? 15. Cosa fai di solito il weekend? 15. Cosa fai di solito il weekend? 16. Hai degli animali domestici? 16. Hai degli animali domestici? 17. Com'è andata la tua giornata? 18. Com'è andata la tua giornata? 18. Ti piace cucinare? 19. Qual è la tua stagione preferita? 20. Qual è la tua stagione preferita? 20. Che tempo fa oggi? 21. Che tempo fa oggi? 21. Ti piace fare sport? 21. Ti piace fare sport? 22. Dove vai in vacanza di solito? 22. Dove vai in vacanza di solito? 23. Hai mai visitato un altro paese? 23. Hai mai visitato un altro paese? 24. Qual è il tuo colore preferito? 24. Qual è il tuo colore preferito? 25. Ti piace leggere? 25. Ti piace leggere? 26. Hai mai visitato un altro paese? Qual è il tuo libro preferito? 27. Hai dei piani per il weekend? 28. Come si chiama il tuo migliore amico? 29. Qual è il tuo sogno nel cassetto? 30. Ti piace la città in cui vivi? 31. Queste frasi possono aiutare a migliorare la conversazione quotidiana e a interagire meglio con le persone in Italia. Buono studio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.